I misteri della vita, della storia. Ratti, c'è un mistero dietro l'altro. Giri d'angolo un mistero, giri d'angolo un mistero. L'ultimo mistero sono questi famigerati monoliti. Conoscete i monoliti, no? Quelle cose triangolari che compaiono dappertutto, in Messico, in Brasile, anche in Italia. Eccoli che vi faccio vedere per chi non... Ecco, questo è un monolite, questo è un monolite. Sono misteri, cari amici a casa. Però pure sto cartello non è meno mistero del monolite. Si avvise la gentile e aspettabile clientela che, 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 che mistero c'è sotto questo che. Oppure questo qua, attraversamento, rospi, andate ad agio. Questo pure è un'altra cosa, questa qui. Vagli sotto, vagli sopra, taglie, siamo tutti con te. Guarda quest'arte, ti vedo di fermata per contestare, per contestare, per contestare, hai capito? Capito, dottor Ratti, pure lei c'è un sacco di tempo libero questa cosa. Bel sedere. Ovino. Eccolo, pure questo è molto bello. Caduta castagne nel periodo tonnale, perché a luglio e agosto ne cascano onestamente poco di castagne. Oggi il bar riaprirà domani, poi il problema rimane il monolite. Paninoteca da coso, e il problema rimane il monolite. Ristoria pizzorante, e poi il problema è il monolite. qui entriamo, cacca mo' ce l'hai una musica de mistero, una cosa misteriosa? Ristorante, le due signore, Carlo e Teresa. Gelateria artigianale, cabanna. E questo, con questo, verrà mai con questo, adesso vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. Questo è partito con la scritta grossa, poi però si è accorto che non c'entrava più, e ha scritto così. Ristorante e si è stretto. E il problema è il monolite.